Quanti di voi hanno un sito internet? Non tantissimi. Quanti di voi hanno un blog dentro questo sito? Ancora meno. Quanti di voi scrivono regolarmente sul blog e pubblicano regolarmente? Ok, quindi veramente pochi. Allora, una delle cose che la pandemia ci ha insegnato, o meglio, che la pandemia ci ha lasciato in eredità, è che essere su internet per le nostre attività economiche è importante. È importante farci trovare su internet. E quindi, durante la pandemia, abbiamo lavorato molto, mediamente, sui nostri siti, sui nostri blog, eccetera. Quando parliamo di essere visibili, essere presenti su internet, stiamo affrontando la cosiddetta SEO in italiano, cioè l'ottimizzazione dei siti per i motori di ricerca. Allora, oggi io vi presento IOST. Il motto di IOST è SEO per tutti. Nel corso dell'intervento capirete perché parliamo di SEO per tutti. Voglio fare una piccola introduzione un po' più tecnica, ma molto all'acqua di rose. Non vi faccio una lezione di SEO, assolutamente. Però è importante che riprendiamo la missione di Google, che è fare soldi, ma quella è la sua attività di business. La sua missione è organizzare l'informazione mondiale e renderla universalmente accessibile e utile. Allora, questa missione è la missione di Google e degli altri motori di ricerca, ma ci coinvolge direttamente e ci dà delle precise responsabilità. Perché organizzare l'informazione mondiale è suo compito, ma renderla accessibile e utile è nostro compito. Nel senso che i contenuti che noi mettiamo su internet devono essere accessibili e utili. Se no, non esiste che noi usciamo nei risultati di ricerca. In realtà no, usciamo anche se scriviamo delle robe brutte, ma soprattutto se paghiamo. Ma se vogliamo essere davvero presenti, cercati e cliccati, dobbiamo scrivere qualcosa che sia accessibile e utile. Allora, velocemente, questo è come Google funziona e come i motori di ricerca funzionano. Ci sono degli spider, cioè dei bot, che vanno in giro per il web, esattamente come i ragni su una ragnatela, e vanno in giro di link in link. Quando trovano un link, se lo prendono e lo mettono nell'index. Gli utenti cosa fanno? Fanno una ricerca sui motori di ricerca. Questa ricerca, questa parola chiave, questa frase che voi scrivete sul motore di ricerca, passa attraverso un algoritmo che viene sputato fuori in quella che si chiama SERP, cioè le pagine dei risultati. Quando noi parliamo di SEO, non parliamo di indicizzazione, cioè ne parliamo anche, ma non parliamo di indicizzazione. Parliamo di posizionamento, cioè di rank, di ranking, cioè di come usciamo sui motori di ricerca. Una, quindi, come usciamo in SERP? Qualcuno dice che se vuoi nascondere un cadavere, lo metti dalla seconda pagina in giù di Google. Questa era una citazione di qualcuno a giugno. Cioè, allora, sì, perché? Perché cosa facciamo come utenti? Quando noi cerchiamo un risultato, facciamo una ricerca su Google, in genere non andiamo molto oltre la prima pagina e se proprio siamo di buona, abbiamo tempo, andiamo anche in seconda pagina, ma non andiamo oltre. Quindi la lotta, tra virgolette, è essere nelle prime posizioni. Tra l'altro, nelle prime posizioni di ricerca organica, cioè non quelle a pagamento, perché è facile essere primi con quelle a pagamento su certe parole chiave, perché basta pagare e vieni sputtato fuori nella pagina. Quando parliamo di SEO, parliamo di posizionamento organico, quindi quello non a pagamento. Tenete conto che l'algoritmo che abbiamo visto prima di Google cambia all'incirca 200 parametri, più o meno, ok? Quindi il vostro sito viene valutato su 200 parametri. In più, Google cambia l'algoritmo tra le 500 e le 600 volte l'anno e generalmente non te lo dice, ok? Perché l'algoritmo è segreto. Cioè ogni tanto, bontà sua, ci dice qualcosa e noi tutti a navigare. In genere, capiamo quando cambia l'algoritmo perché eravamo primi e passiamo in sesta pagina ed è colpa del plug-in. Ah no, questo non lo devo dire. Quindi passiamo, perdiamo il nostro posizionamento e quindi ci agitiamo. Anche perché per alcuni business il posizionamento è veramente importante. Quindi perdere delle posizioni vuol dire perdere soldi. Mi riferisco agli e-commerce. Allora, cosa possiamo fare per, come dire, lavorare sull'asseo? L'asseo, quindi, poiché ci sono 200 parametri, è veramente un'attività complessa. Quindi parliamo di SEO come l'insieme delle attività che servono per, appunto, ottimizzare i siti per i motori di ricerca. ma avendo tutti questi parametri è veramente una scienza complessa. Ma non dobbiamo lasciarci spaventare da questo. Possiamo fare qualcosa anche senza essere esperti SEO. E la missione di Google, di IOS, è proprio SEO per tutti. Cioè quello di dare, ovviamente non diventerai l'esperto SEO mondiale, ma comunque riuscirai a fare un lavoro discreto sul tuo sito. E IOS fa plug-in, plug-in per WordPress. Quindi cosa fa IOS? Quindi voi avete, è un plug-in che viene distribuito in due forme, una forma base, che però è un ottimo prodotto, che è free, e una forma premium, che è ancora più ottimo, che è a pagamento. Allora, IOS SEO plug-in cosa fa? Vi permette di impostare quelli che sono i fattori on page, cioè i fattori che possono essere controllati dall'utente. Perché poi ci sono i fattori off page, che sono invece quei fattori che sono più difficilmente controllabili, tipo i link che da altri siti verso il vostro sito, oppure il traffico che vi viene generato dalla newsletter. Insomma, sono più difficili da gestire. Invece, i fattori on page sono un pochino più semplici da gestire. Il plug-in vi permette di impostare. Intanto vi dà la possibilità quando lo impostate, automaticamente già vi genera dei dati strutturati. I dati strutturati sono quei dati che vi servono perché Google e i motori di ricerca capiscano esattamente il vostro sito. Perché se noi vogliamo renderla essere accessibile e utile e vogliamo che Google ci trovi, la prima cosa che è fondamentale è che Google e gli altri motori di ricerca capiscano esattamente i nostri contenuti e quello che noi vogliamo dire. Allora, per fare questo ci aiutano i dati strutturati e IOS automaticamente già nel momento in cui voi semplicemente impostate il plug-in automaticamente vi imposta alcuni dati strutturati. Poi però vi dà la possibilità di impostare tutti quelli che sono i fattori, gli elementi principali letti da Google. Quindi, per esempio, voi avete presente quando fate una ricerca sui motori di ricerca vi escono fuori quelli che si chiamano snippet. Gli snippet hanno in alto un indirizzo una URL poi c'è un titolo cosiddetto titolo SEO e poi ci sono due righe di descrizione che si chiama metadescription metadescrizione. Quindi, attraverso il plug-in voi potete impostare il titolo SEO e la metadescrizione. Recentemente Google ha cambiato il modo in cui sputa fuori i titoli SEO e quindi voi scrivete una roba sui plug-in e non la ritrovate nella ricerca e dite ma perché lo impostate e scrivete al supporto perché il plug-in non mi sputa fuori. No, in realtà c'è stato questo cambiamento che ha radicalmente veramente ha buttato giù in seconda, terza, quarta pagina un sacco di siti dando dei titoli assolutamente casuali. Casuali no, però non quelli voluti dall'utente. Abbiamo già fatto un aggiornamento del plug-in per cui adesso il plug-in è allineato con quanto Google vuole per i titoli SEO e questi dati li potete impostare sia a livello generale quindi se vi dimenticate di farlo di volta in volta comunque c'è la parte generale che vale per tutto il sito e poi li potete impostare di volta in volta quindi contenuto per contenuto post per post eccetera. Ci sono tante funzionalità ma io cerco anche di accorciare. Un'altra cosa importante che abbiamo introdotto è la possibilità di definire i dati strutturali contenuto per contenuto quindi potete cambiare questa impostazione per una pagina se non è coerente con l'impostazione che avete messo a livello generale e poi anche la possibilità di gestire come esce fuori un contenuto sui social. Questa è la parte di impostazioni SEO detta molto velocemente ovviamente perché poi avete una parte per cui Iost SEO è famosa i bollini i bollini rossi bollini gialli e bollini verdi allora abbiamo un po' cambiato cosa sono questi bollini in pratica poiché uno degli elementi fondamentali della strategia SEO sono i contenuti noi non ci stanchiamo mai di dire che i contenuti content is the king cioè i contenuti sono veramente importanti breve nota io ho visto per anni facevo delle ricerche e c'era un sito molto famoso un blogger molto famoso non so se posso citarlo molto famoso che usciva sempre per primo che aveva un sito così brutto ma così brutto che veramente io ne ho visti pochi ma in realtà era primo perché lui dava delle risposte cioè come trasformo un'immagine da immagine a pdf salvatore ha la risposta come come faccio a far salvare le mie immagini dal mac anziché come png come jpg salvatore ha la risposta cioè lui ha la risposta per tutto poi si è venduto al denaro e adesso non è più tra i primi e il suo blog è anche molto caduto comunque questa è la parte quindi se il contenuto è il re cosa vi fa cosa fa ioost scrive i contenuti per voi no ma vi dà un feedback e il feedback poi è visualizzato con i pallini i famosi pallini allora il feedback sono di due tipi il feedback sulla seo quindi se avete impostato il titolo seo no se avete messo il titolo l'alt tag per le immagini oppure no se avete messo gli h2 avete messo la parola chiave negli h2 se avete impostato la parola chiave e così via vi fa tutta una serie di check sul seo mentre e sulla e poi vi fa una serie di check sulla leggibilità quindi vi dice se avete usato le parole di transizione se in pratica vi dice se il testo è leggibile secondo un algoritmo ovviamente è un algoritmo che è sofisticato ma è un algoritmo quindi la domanda classica è come si fa a avere tutti i bollini verdi? non lo sappiamo neanche noi perché? perché dipende su molti articoli noi abbiamo anche sulla leggibilità i bollini verdi magari sulle articoli più tecnici no dipende generalmente la cosa che noi suggeriamo è quella di avere il bollino il più possibile verde quindi verde-arancione sull'analisi seo perché lì sì quelli sono i dati che servono a google per capirvi bene sull'analisi di leggibilità dipende dai vostri utenti cioè se voi scrivete poesie magari le parole di transizione non ci sono e chi se ne frega cioè vi leggeranno lo stesso ok? così come magari non mettete i titoli seo i titoli gli H2 gli H3 eccetera in una poesia ok? la cosa che per me è molto utile e importante è usare questi feedback come una checklist per cui quando io scrivo i miei articoli io vado a vedere quali sono i feedback che il plugin mi dà e poi decido se è una cosa che vale la pena migliorare oppure no ok? questo questi sono i bollini quindi non vi arrabbiate se non avete i bollini rossi magari è perché è proprio così è proprio importante che voi non abbiate i bollini verde perché avete scritto una cosa talmente super figa che siete fuori dall'algoritmo e quindi siete unici ancora due proprio brevi parole sulla versione premium la versione premium vi dà alcune funzionalità in più e ce ne sono un paio che vale la pena dire una è il redirect manager che per me è la funzione più importante perché vi evita di avere un altro plugin che vi fa quella roba lì e quindi una sezione dove voi gestite i vostri reindirizzamenti e ha una funzione di redirect automatici quando voi cancellate un contenuto quindi voi cancellate un contenuto automaticamente ioost ve lo reindirizza con un reindirizzamento 301 vi esce fuori l'avviso e voi ovviamente potete dirgli sei cretino io non voglio reindirizzarlo con un 301 voglio farlo con un 410 di pagina eliminata oppure voglio decidere di reindirizzare quel contenuto verso un'altra pagina che non è la home page e allora a quel punto ovviamente voi potete dire non fare quel reindirizzamento e lo fate voi manualmente però è comodo è proprio comodo il reindirizzamento automatico perché vi evita un sacco di 404 gli errori 404 di pagina non trovata non sono un problema per google che li considera assolutamente normali però abbassano moltissimo l'esperienza utente perché cavolo tu fai una ricerca trovi esattamente lo snippet che ti piace il titolo dici questo è il contenuto per me clicchi sopra errore pagina sconosciuta ti girano anche un po' i maroni e magari su questi titoli non ci vai neanche più tanto una seconda funzione che è nuova è nuovissima ed è anche molto divertente si chiamano i workout i workout sono degli esercizi guidati che vi permettono di fare il check sul vostro sito ad esempio vi analizzano i contenuti che voi avete indicato come i contenuti più importanti del sito i contenuti cornerstone e vi dice se quei contenuti lì sono ottimizzati al meglio e vi invita a ottimizzarli ancora di più e poi vabbè c'è il supporto premium personale con dei fantastici agenti di supporto veramente disponibili e che sanno tutto su Yoast SEO risorse poi ci sono altre funzionalità tipo l'internal linking che è molto molto utile però insomma quelle poi ve le andate a vedere risorse allora il sito di Yoast proprio perché la missione SEO per tutti il sito di Yoast è una miniera di contenuti ma veramente io vi invito anche se odiate Yoast anche se usate cioè che proprio non vi piacciamo però andatevi a leggere i contenuti perché sono veramente veramente ben fatti e sono una miniera di suggerimenti di cose che vi aiutano davvero a inquadrare bene è un mini corso di SEO e poi abbiamo i corsi sì un mega corso di SEO perché credo che ci siano più di 400 articoli e una sezione di help veramente infinita invece che nessuno legge però noi vi linkiamo guarda io ti do la risposta ma se te la vai a leggere sul sito la leggi bene e capisci bene e poi abbiamo un'academy l'anno scorso abbiamo fatto un mega cambiamento per cui l'academy è compresa nell'abbonamento premium quindi se voi fate l'abbonamento premium avete anche l'accesso libero a tutti i corsi dell'academy ma se volete farvi un'idea di come funziona il potete fare un account gratuito su mymy.yoast.com e lì ci sono già dei corsi gratuiti che potete vedere e potete vedere anche gli abstract degli altri e potete capire se sono cose che vi interessano o no se vi piace il metodo se non vi piace il metodo però già ad esempio c'è un SEO for beginners che è veramente utile perché ti da ti ripassa se non ne sai molto ti da un'infarinata di SEO avevo fatto delle bellissime slide con questi bellissimi disegni non potevo non mandarlo io sono Laura Sacco lavoro a Yoast per il servizio nel servizio supporto clienti e ho iniziato a lavorare per Yoast a 50 anni anzi 51 questa è la mia slide preferita scusate solo quella con i fiori perché io penso positivo sempre e quindi i pomodori penso che non me li tiriate ma che ve li mangiate se avete delle domande sono qua se avete delle domande anche su Yoast me le fate anche fuori tutti 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 Grazie a tutti.